Questo libro di Platone non andrebbe tradotto repubblica. Idea di fondo è che se Trasimaco ha ragione e non viene smentito, non gli si risponde, non nasce nemmeno la filosofia. La politica non è altro che banale gioco di sopraffazione di questo su quello e i saperi sono soltanto saperi tecnici rivolti alla produzione di utile. La filosofia non viene messa al mondo e per mettere al mondo la filosofia bisogna prendere una decisione e la decisione, come tutti sappiamo, è infondata e la filosofia si porterà sempre dietro questa infondatezza. Si può benissimo vivere senza, la filosofia non si autogiustisce. Platone ci dice che nasce la filosofia quando al lupo, al lupo Trasimaco, si dice no caro Trasimaco, hai torto perché l'uomo è, in quanto uomo non un lupo e non è nemmeno un uomo, si è uomini in quanto si sa di dovere e di potere essere quasi digno. Se non c'è questo gesto assoluto, dove assoluto vuol dire infondato, se non c'è questo gesto non parte la macchina filosofica, la quale macchina filosofica ha bisogno della duplicazione del mondo, cioè delle idee, e dunque ha bisogno della metafisica, ma molto di più ha bisogno del bene che è al tempo stesso idea, cioè qualche cosa di cui si può dire, il segno più messo davanti alla metafisica, che ci sia qualche cosa piuttosto che nulla e che questo esserci di qualche cosa sia in sé bene. È bene che l'uomo si sforzi di essere non lupo. Mi devo distaccare dalla città per salvarla, devo sporcarmi le mani con la città perché la filosofia nasce per salvare la città, per far sì che la città sia ciò che può essere e deve essere. Se vuoi fare filosofia devi stare dentro questo gioco. Le filosofie sono automatoi, nascono spontaneamente, ma per caso, come le erbacce. Se potessero passerebbero la loro vita nascoste dietro un muricciuolo nella città cattiva o, nella migliore delle ipotesi, si riconoscerebbero a fiuto fra di loro, si metterebbero in una specie di fortezza assediata, cioè l'accademia. Ma nella migliore delle ipotesi ancora si dedicherebbero soltanto ai loro giochetti geometrico-matematici-dialettici o starebbero lì a contemplare il cielo, sperando di vedervi scritte le equazioni della meccanica razionale, o contemplerebbero sostanzialmente la filosofia. I filosofi contemplano la filosofia. È destino della filosofia essere separata e al tempo stesso ridiscendere. Separarsi, anabasi, ridiscendere, catabasi, altrimenti succede l'insensatezza, cioè la metabasi. La città si muove secondo logiche politologicamente afferrabili, come un entomologo riesce a guardare un formicaio e a descrivere i meccanismi delle formiche, così Platone guarda la città non filosofica muoversi, agitarsi e andare a finire nella necessità del così è, si va a finire nella necessità del tiranno. La filosofia come critica della città, come critica di se stessa, perché è macchina metafisica che afferma di essere sorretta dal bene, di essere resa possibile dal bene e di non poterlo mai afferrare del tutto. Come dire, non crediate in nessun filosofo che chiuda la filosofia in se stessa. E al tempo stesso la filosofia si chiude per difendersi e si apre per scendere, salvare e comandare, nel senso di dare un indirizzo per dire agli uomini potete essere meglio. Perché nel decimo libro si dice la filosofia vi orienta, ma la responsabilità della vita è vostra. Platone, l'uomo dell'antichità, non crede per nulla che il lavoro, questo marchio della necessità, porti con sé la possibilità della libertà. La libertà la conquisti in un altro modo, con la virtù, non con la fatica. Platone ci serve, se ce ne vogliamo servire, per ricordarci perché siamo filosofi, perché ci sforziamo nella infinita piccolezza di essere filosofi. Qual è l'origine di questa malattia che ci separa dal mondo e al tempo stesso ci mette in grado di capirlo, di giudicarlo e a volte perfino di volerci metterle mani dentro? Ecco, l'origine è che il filosofo è stato ucciso ed è stato ucciso secondo la legge e non per caso, è stato ucciso in un processo in cui si è potuto difendere. Il filosofo è stato ucciso, non c'è posto per lui nella città. E noi diciamo bene, ci deve essere posto. E questo perché lo diciamo? Perché crediamo che sia possibile che ci debba essere questo posto. Potenza e contingenza, bene, metafisica, azione, praxis. Una praxis che è educazione essenzialmente. E l'arte, ma è evidente che noi non rinunceremo all'arte, però stiamo attenti, noi non rinunceremo all'arte perché facciamo i filosofi. Perché l'arte per noi non è divertimento, diversione. Per Platone invece l'arte era quello che per noi era televisione. Quando pensava alla tragedia, pensava a una cosa che non si legge da soli nella propria stanza. Pensava a una rappresentazione a cui partecipava fino a un terzo della popolazione che davvero si immedesimava in Agamennone e che davvero si immedesimava in Edipo e che davvero credeva che la cosa più importante che si può fare al mondo è lamentarsi del proprio destino. Oppure l'arte è la commedia, che aveva lo stesso numero di spettatori e che sostanzialmente diceva che, sì, è vero, la città non si regge sulla virtù, non si regge sui grandi ideali che essa proclama di sé, che si regge sul vizio, ma che il vizio è insuperabile. Ma che comunque cattura l'attenzione dei più per non far pensare ai più ciò che essi invece potrebbero e dovrebbero pensare. In questo senso l'arte è nemica della filosofia. La prima cosa che bisogna fare al popolo è sottrargli i giochi con cui si diverte, perché non ci si deve divertire, ci si deve concentrare. Il punto è mettere in moto la macchina e lui l'ha fatto e ha anche detto la metto in moto per scommessa contro Trasimaco che non sia mai che abbia ragione lui, perché non è vero che l'uomo è un lupo, l'uomo può essere di. Tutto ciò è una scommessa, cioè ha un'alea, ha una incertezza. L'universo della certezza nasce dalla incertezza. Bene, proviamo, non importa, continuiamo. Quando Max Weber diceva non importa, continuiamo, non lo sapeva, ma stava dicendo non c'è motivo per tentare di essere, di fare del mondo qualcosa di razionale, ma continuiamo lo stesso.